Siamo in compagnia di Luca Marcheggiani, intanto grazie per essere con noi su TV Play. Grazie a voi. Una giornata importante qui al Social Football Summit, rappresenta chiaramente i valori anche dell'industria, tante industrie sono venute qui a raccontare i loro principi, che cosa rappresenta per te questa giornata? Ma allora, sicuramente confrontarsi con tante componenti del calcio che hanno un valore importante, non secondario sicuramente a quello che è l'aspetto più agonistico, più sportivo, più tecnico. Perciò è un'esperienza molto interessante, io sono venuto qui per parlare del nuovo formato della Champions, che seguiremo con Sky, insomma una serie di... Proposte interessanti? Sì, sì, di diversi aspetti, appunto di una passione che coinvolge tutti noi. E beh, come chiaramente il calcio in generale. Appunto vado a parlare anche di calcio, insieme a te, chiaramente sei un grande volto amato da tutti gli italiani, parliamo di nazionale, ecco per noi insomma questo pari contro l'Ucraina ha rappresentato però un grande respiro, un grande sollievo dopo le ultime, quindi che ti aspetti come percorso per questa nazionale e soprattutto in cosa ti ha stupito Luciano Spalletti che da poco ha preso in mano questa squadra? Allora, Spalletti è stato bravo perché è riuscito subito a trasmettere quello che serviva in questo momento alla nostra nazionale, cioè idee, ma soprattutto con serenità, tranquillità. Mi sembra che dopo il pareggio alla prima partita che aveva fatto temere anche, no? Un po' per la qualificazione, in realtà poi la squadra ha fatto bene, sia dal punto di vista dei risultati ma anche dal punto di vista del gioco. Poi è chiaro, era dovuto probabilmente qualificarsi per questo europeo, perciò non è che si possano fare trionfalismi particolari, no? Però io credo che in un momento così in cui la sensazione che si ha guardando la nostra nazionale che possa crescere molto, avere questo pass per una competizione che non ci vede partire in prima linea secondo me in questo momento ma che ci dà la possibilità di crescere, di fare esperienze e forse toglierci qualche soddisfazione, non ci dimentichiamo l'ultimo europeo che partendo dalla seconda linea siamo comunque riusciti a vincere perché non sperarci? Perché non continuare a sognare. Andiamo un po' al campionato, ecco c'è questa partita, rientro importantissima, il derby d'Italia che è un po' anche una partita a scudetto perché poi sono lì a pochi punti l'una dall'altra. Cosa ti aspetti innanzitutto dalla partita e poi tra chi sarà veramente questa lotta finale? Allora in questo momento è giusto definire la partita a scudetto perché sono le due squadre in testa della classifica e quelle che hanno fatto meglio fino adesso sia come continuità di rendimento ma anche per la consapevolezza che entrambe hanno dimostrato pur giocando in maniera diversa magari anche con dei risultati diversi. Io credo che l'Inter in questo momento, per quello che ha fatto vedere fino adesso non in questo momento, sia nettamente più avanti rispetto alla Juventus perciò la vedo come favorita non solo in questa partita perché poi una partita secca può succedere qualsiasi cosa però per la vittoria finale però va anche detto che la Juve sta velocizzando il suo processo di ricostruzione viene da un'annata dove sembrava veramente fosse quasi tutto da buttare e dover ricominciare da capo come inizio non c'è male perché trovarsi già in questa posizione di classifica tra l'altro valorizzando secondo me non solo alcuni giocatori ma alcune idee di gioco non dico sorprendente però è sicuramente un gran risultato per questa inizio di stagione per la Juve, per Allegri, per chi ha fatto la squadra anche per la crescita di alcuni giocatori che stanno veramente diventando calciatori di alto profilo. Un ultimissimo e poi ti liberiamo Luca te lo chiedo perché sei stato un grandissimo portiere quindi vorrei da te un nome che ti ha stupito particolarmente l'italiano chiaramente un portiere italiano che ti piace particolarmente ne abbiamo tanti bravi Evicario, Di Gregorio ecco, chi ti piace? Ma io dico Provedel perché non è giovanissimo portiere che ha fatto tanta gavetta però devo dire sinceramente questo è un complimento che gli faccio non ha nient'altro non mi aspettavo che fosse così capace di aumentare il suo livello rispetto a quello che serviva per essere non un giocatore importante uno dei giocatori più importanti della Lazio lo ha fatto lo sta dimostrando sia in campionato che in Champions perciò se devo pensare a un portiere in questo momento senza nulla togliere a quelli che hai citato tu che sono bravissimi e stanno facendo benissimo però se devo dire un nome dico Provedel grazie Luca per essere stato con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti